Ma salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Elasio che vi parla e oggi siamo qui, come potete vedere anche da schermo, con una nuova grafica prima di tutto. Infatti sono stato a lavorare un paio d'ore per questa grafica e a me piace, molto carina, fatemi sapere sotto nei commenti voi cosa ne pensate. E oggi siamo qui per vedere le news che sono state inserite in game per quanto riguarda Dokkan Global. Infatti possiamo vedere subito che, dalle news, che stiamo naturalmente in procinto di quarto anniversario visto che è iniziato proprio oggi che sto registrando, che è il 7, 7 si, è iniziato l'anniversario e con l'anniversario arrivano tutte nuove batch, novità e tant'altro. E intanto vediamo le news. Come potete vedere, appena voi avviate il gioco ci sarà un video informativo che il quarto anniversario sta per iniziare, vabbè. Il nuovo like bonus per il quarto anniversario, ok. Ticket summon che durante questi giorni, prima che arrivasse questo grandissimo anniversario, c'erano questi ticket che vi venivano regalati ogni giorno. E che potete usare in una batch apposita con quasi tutte le LR, tranne quelle là, categorie, cioè praticamente le LR colore, leader colore. Poi, questo ha bene le sfere del drago, bisogna collezionare ogni giorno. Questa è una missione, sì, sono le varie missioni che si devono fare. Questa è una novità, sono tipo campagne per Facebook, vabbè, questa ancora non ci interessa, basta andare su Facebook, lasciate like, condividete e roba varia. La God Dragostone 6 che potete prendere a Yeza, Yeza sono usciti, ottimo, vi consiglio, anzi dopo vi dico pure cosa vi consiglio. I soliti sconti, molto conveniente questo 32, poi altri, vedete come volete. Poi ci sta naturalmente lo Shop, che se prendete il pack costa 50€, 100 Dragostone, vi danno pure la Premium Dragostone 3 che potete prendere un class leader. Non class leader, un leader colore, ecco, non sbagliamoci. Ecco qua, questa è la Stone Premium che vi uscirà con il pacchetto. Poi, userete, ci sarà nello Shop e Coin che si possono utilizzare nel quarto anniversario. L'evento giornaliero che vi darà Zeni. Giru che avrà, cioè, si potrà farmare, si potrà portare a Tour, ok? LR Pan, si può fare ogni giorno. Eza di Goku Jr, si può portare a 140, utile per, come personaggio free to play. Boss Rush, nuovo Boss Rush aggiunta, un po' ostica, possiamo dire, per chi non gioca da molto, perché c'è Goku 3 Sting che può dare problemi, Jiren che vi ferma le rotazioni, ma per il resto, molto semplice. Vabbè, i soliti pack che si possono shoppare. Poi, arriviamo alla parte interessante, ovvero, la patch di Goku e Vegeta IV. Allora, come funzionano? Praticamente, ci sono le prime 3 multi summon che costano 30, se non sbaglio, e ogni multi vi daranno dei ticket casuali che potrete utilizzare nelle loro batch apposite. E dopo queste 3 multi da 90, ci sarà la multi free e poi ricomincerà il giro, però ogni multi varrà 50. E dopo le 3 multi da 50, naturalmente, ci sarà di nuovo la free. E questo sarà in un tot di tempo limitato. Come possiamo vedere, dall'8, facciamo il 9 da noi, 9 mattina, fino al 13 mattina, più o meno, sì. Infatti, come possiamo capire, dalla data di allora, le batch arriveranno martedì mattina, più o meno, intorno alle 8, più o meno. Poi, naturalmente, faranno entrare a scaglioni, perché se no, si intaseranno i server, ma vabbè. Vedete, 400 ore only, super multi summon discount. Naturalmente, vi consiglio io di fare il giro da 90 e il giro da 90 su tutte e due le batch, poi se volete continuare, sta a voi decidere. Poi, i due Dokkan Festival, vabbè, si aggiorneranno per il nuovo Goku, il nuovo Vegeta. Batch del Ritual Summon, qua, dell'elverkai, 25-5-5-elverkai, vabbè. Poi, interessante, le batch colore, che ci sarà la GL, Tech, Settiere, Physicoid, io vi consiglio di pullare sulla Tech, che ci sta sia Broly, Zamasu, Goku LR, e ci dovrebbe essere anche la Family. Quindi, bella batch, ci sono parecchie LR, molto interessanti, sempre se non ne dimentico qualcun'altra. Vabbè, poi, vabbè, tutti gli eventi GT, ok, questo, ottimo, si può fare una volta a settimana tutto il giro di tutte le orb, potete fare, ottimo. La Road è aperta ogni giorno, ogni Dokkan event è aperto, Extreme Zeta Battle tutti aperti, l'evento di Goku Junior per far male, ho visto che ci sarà il Sueza, E, naturalmente, se ci sta pull, ma c'è anche torneo, quindi torneo molto vicino, evento di Goku Junior, qua, vabbè. Stamina da 5 minuti a 3 minuti, ma questo già c'è da molto tempo. Expo quadruplicata nelle quest, e 30% di sconti nel Babashop. Ok, e fino a mo', come inizio di celebrazioni, possiamo dire che non è malvagio. Poi, vediamo, diciamo, la novità sul globo, avesse che sul job già c'è, infatti, qua, naturalmente, non è che vi spiega tanto, vi dice soltanto, praticamente, che voi, ogni, eh, stone che pullerete vi daranno dei ticket, dei coin, voglio dire, e in questi coni potrete scambiare al Babashop con dei personaggi appositi. Infatti, ogni stone che pullerete sarà un coin. E per i PG, do confesso, possiamo dire, tipo, se voi volete prendere Goku e Vegeta 4, dovete usare 500 coin rossi. Mentre per le LLR, i coin sono questi dorati, e per le, eh, le batch con le colore, come per esempio ci sono i buffer, tipo nella batch tech, cioè TN e Cell, potete prendere con i coin azzurri. Ci sono, vabbè, i coin per ogni personaggio, però, utili. E poi, vabbè, queste sono le varie cose che vi ho detto, le varie notizie. E intanto, andiamo a vedere, prima di tutto, al Babashop. Così vi consiglio anche chi prendere, vabbè, naturalmente, dopo vi spiegherò anche quest'account, il perché esiste quest'account. Sì, vabbè, non mi interessa, da poco ho fatto il transfer, vabbè, tutte le cose da prendere, ok. Con la store rossa, allora, io principalmente vi consiglio Gogete STR. Molto forte, si può utilizzare anche come leader, per chi non avesse un leader globale, che ha appena iniziato il gioco, ottimo, buonissimo. Poi, come seconda scelta, che ne so, l'avete già full ability, o ability 2 o 3. Goku e Eza, vabbè, Goku e Eza, ottimo. Se l'Eza, pure lui è buono, ma è una terza, se non quarta scelta. Guanart, mi mette lasciatelo stare. Broly, lui, ottimo per il torneo, se non avete l'LR. Eza fa i suoi sporchi tani, però vi consiglio di averlo da ability. FPF, utilissimo, prendete lui, se vi serve con sopra una copia per l'ability, utilissimo. Beerus, forte, si però, se avete anche l'LR. Se non avete l'LR, non ve lo consiglio di prendere, prendete gli altri. Però, noto me, se avete tutto altro full ability, come io, sul principale, ho preso Beerus, così l'ho portato full ability. Quindi, avendo tutti questi precedenti, i full ability. Kid Buu fisico, ottimo buffer, ottimo davvero, con l'Eza, un amore. Vegeta, Super Saiyan 3, vabbè, Tank, anche dopo Eza, ma anche senza Eza, è la stessa cosa. Kid Buu Agile, schifo, 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 schifo. 3-3 della Family, vi consiglio Goten, del resto potete lasciare. Parato me, vi ho detto la Goldstone 3, che, naturalmente, si deve scioppare, e... niente. Ah, poi, naturalmente, vi faccio vedere le summon. Perché, come vi ho detto, durante questi giorni hanno dato questi ticket, che, eh, voi, potete pullare. Come faccio vedere, anche i PG, ma non è che ci sono questi grandi PG. Vedete, c'è Vegeta, vabbè, gli SSR, comuni, non interessano. A parte qualcuno, Rageda, utile, ottimo. Però, noto me, vi ho detto, ci sono le LR, quindi io vi consiglio di, oh... Usare questi ticket, visto che sono anche gratuiti, quindi pullate tutti, e, mi raccomando, scullate le LR. Poi, del resto, queste erano tutte le notizie per Dokkan. Le emissioni, ve le faccio lo stesso vedere, se fossi interessati, però, naturalmente, sono molto semplici. Quelle giornaliere. Dovete usare, vabbè, Training Location, questa, vabbè, non serve, questa è quella delica e non serve. Quarta anniversità per ottenere i ticket, vi faccio vedere, questi qua per pullare dalle LR. Dovete fare le missioni giornaliere, quindi vi consiglio di farle, fate questa della Training Location, perché molti, non allenando i PG, non è che uno allena i PG a cazzo, non lo fa e quindi non prende il ticket giornaliero, mi raccomando. Poi gli altri usano, fanno un evento, molto semplice come cosa. E poi, questi sono tutti le missioni. Guardate, Dokkan Event, Extreme Zeta Battle, Dokkan Awakened, Unlock 2 Ponential Roots, e... Questo, praticamente, andando avanti con... I giorni. Ci saranno l'Ezza di Goku Union, che dovete farmare, quindi dovrete dare le orb, e tramite queste orb, sbloccherete quest'altri... Quest'altre mission, vedete, SA5, SA10, per chi non l'ha mai farmato, adesso può farmarlo. Poi ci saranno anche Jill, visto che c'è Jill, potete farmarlo, le mission grazie anche a quel personaggio. E... molto semplice, come vedete potete ottenere i Gacha Coin, i Gacha Coin, i Coin per... Prendi i soliti PG che ci stanno ogni anniversario. Naturalmente, se a voi interessi, io vi consiglio, prima di tutto, di prendere i Funky Kai, che sono sempre utilissimi. Poi, se ne avanza qualcuno, prendete questi personaggi che sono carini. Un po' qua, tutte le medaglie nudi, orb, non fanno male. E... training item, niente di che. Vabbè, ragazzi, eh... Ah, vi volevo vedere il fatto dell'account. Eh... praticamente, vi consiglio di venire martedì live, per chi stesse vedendo questo video. Perché pullerò insieme a voi. E... ci saranno tre mie account. Eh... questo, che è un account secondario. Ho un altro account, possiamo dire, di sempre secondario. E ho... l'account principale, che naturalmente faremo il big pull, tutti i ticket e... così via. Eh... i ticket, come vedete, ne ho molti, quindi non li pullerò adesso in questo video, ma li pullerò in live martedì mattina. Quindi, appena riuscirò ad entrare in gioco, avviererò la live e cercheremo di pullare, di trovare le due LR. Quindi, mi raccomando, martedì mettete la sveglia. Io, verso le... 8 e mezza, 9, cercherò di entrare in gioco, sempre se non ci saranno i problemi dei server. E... mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, fatemi sapere, ricordate, in descrizione, come la grafica. Se potevo aggiungere qualcosa, fatemi sapere il vostro parere. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ah, e in descrizione, link al canale Twitch, così potete venirmi a vedere. Grazie a tutti.